Oggi vediamo una delle pistole uniche più forti in Borderlands 3 e che sicuramente potremo ad andare a mettere quasi al pari della Maggy o Trickshot o qualunque cosa volete. Si chiama Quickdraw e è un pochino difficile da utilizzare, bisogna farci proprio memoria mescolare, però è abbastanza forte. Quello che può fare è molto semplice. Vedete che fa dei danni enormi, ma dopo un po' rallenta tantissimo. Per quale motivo? Perché quando andate a cambiare arma e quindi selezionate questa passando da un'altra arma andrete a dargli un bonus per 3 secondi che ricaricherà il vostro intero magazine e vi aumenterà i danni del 140% appunto per questi 3 secondi. Quindi quest'arma va utilizzata semplicemente spammando e una volta finito il caricatore ho scaduto i 3 secondi switchando un'altra arma e tornando indietro. E vedete che così è facilissimo anche eliminare dei consacrati. Il problema è che è facile sbagliarsi, fare doppia arma e andare di uno e ops non c'è più quell'arma lì davanti. Per cui dovete farci un pochino appunto l'abitudine. Ma una volta abituati devo dire è semplicissimo e i risultati si vedono. È un'arma unica ma comunque vedete che è molto molto forte per cui non scartatela a prescindere. E appunto può non dico essere alla pari ma quasi con il classico trio, il classico duo scusate, Maggie e Trickshot. Sicuramente la Maggie e la Trickshot sono però più facili da utilizzare perché letteralmente dovete solo sparare. Però anche questa ci sta. Se vi interessa ottenere quest'arma la potrete ottenere nel DDLC3 andando a completare la missione The Quick of the Quick and the Quicker a Vestige.